Oh, Roger, sei tornato. Sei sveglia? Ti preparo qualche panino. Vuoi latte e biscotti? No. Ti preparo un po' di panini. Roger, sei tornato! Ti ho preparato dei panini. Sì, ma vedi, questo non è un panino. Un panino ha due pezzi di pane con un sacco di schifezze in mezzo. Ci sei, nonna? Oh, nonna! Oh, mio Dio. Che cazzo. Non sento niente. Oh, Roger! Che spavento! Sei tornato! Per favore, ti prego, non mi fare più questi scherzi. Vado a prepararti dei panini. Stavo per preparare dei panini. Te ne preparo uno prima che tu vada. Piccolo, io non lo so, io ho un sacco di cosa da fare, sai, io... Insomma... D'accordo, preparami dei panini. Devo prepararti dei panini. No, non voglio nessun panino. Ma cos'è questa mania di voler preparare dei panini? Quindi... ...